Ciao a tutti, questo è il mio canale, io faccio video nel quale tratto l'argomento di idee, come si coltivano, i vari generi, ovviamente ne sono nella mia serba. Mi sto semplicemente presentando perché ho già avuto un vecchio canale chiamato Tommy e Lio, poi ho dovuto cambiare telefono, ho cambiato scheda, l'account non me l'ha salvato e quindi ho ricominciato da zero. Il mio nome è Orchidea Online, sono un ragazzo di 11 anni e faccio la prima media come scuola e abito a Pescara. Spero che i miei video mi piacciono, i miei video mi piacciono. Guardateli ogni volta, iscrivetevi al canale, commentateli, lasciate tanti like, non voglio vedere pollicioni in giù. Infatti ho una scappata nel mio vecchio canale chiamato Tommy e Lio. Spero che vi piacciono i miei video, aiutatemi a crescere, iscrivetemi e se vi iscrivete in questo modo mi aiutate anche con gli iscritti, io aiuterò voi, mi ricambierò, mi iscriverò nel vostro canale anche se sono argomenti che io non tratto. Allora, ogni tanto, oltre ai video di orchidee, tratterò anche altre cose. Attualmente pubblicherò un video nel quale vi spiegherò che sono andata all'orchideria di Morosolo, che vista 7 ore da casa mia sono andata a Trento e ci ho messo 7 ore, poi da 7 ore sono andata a Morosolo, dopo Trento sono andata a Morosolo, altre 4 ore di viaggio e ho acquistato degli esemplari di orchidee, draco, zattere e orchidee nel vaso. Mi manderò questo video vecchio, l'ho aggiustato, adesso ve lo farò vedere e spero che fa tante visualizzazioni. Ciao!